Il mondo dei gioielli è un universo affascinante e ricco di meraviglie, tra cui spicca il quarzo citrino. Questa gemma luminosa e affascinante ha una storia antica e un fascino intramontabile. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche distintive del quarzo citrino, le credenze associate ad essa e il suo significato gemologico. Il quarzo citrino, un capolavoro della natura. Il quarzo citrino è una varietà di quarzo che si distingue per il suo colore caldo, che va dal giallo dorato al marrone chiaro. La sua tonalità deriva dalla presenza di ferro all'interno della struttura cristallina del quarzo. Questa gemma è stata utilizzata per secoli per creare gioielli straordinari e ornamenti, grazie alla sua bellezza intrinseca e alla sua disponibilità relativamente abbondante. Caratteristiche fisiche e ottiche Dal punto di vista gemologico, il quarzo citrino ha una durezza di 7 sulla scala di Moss, rendendolo abbastanza resistente ai graffi e all'usura quotidiana. La sua lucentezza vitrea conferisce un tocco di eleganza a qualsiasi gioiello in cui è incastonato. Il quarzo citrino può essere trovato in diverse forme, come cristalli trasparenti o pietre tagliate con diverse sfaccettature per massimizzare la sua brillantezza. Origini del quarzo citrino Le principali fonti di quarzo citrino si trovano in diverse parti del mondo, tra cui Brasile, Madagascar, Russia, Stati Uniti e Spagna. Il Brasile è particolarmente noto per le sue straordinarie giaciture di citrino, in cui possono essere trovati cristalli di dimensioni notevoli e colorazioni particolarmente intense. Credenze e significato Il quarzo citrino è spesso associato a diverse credenze e significati culturali. In molte culture, questa gemma è stata considerata un simbolo di abbondanza, prosperità e positività. Si crede che porti fortuna al possessore e che possa attirare ricchezza e successo. Il suo colore solare è collegato all'energia positiva e alla vitalità, donando un senso di ottimismo e fiducia. Inoltre, il quarzo citrino è stato tradizionalmente utilizzato come pietra di guarigione e protezione. Si dice che possieda proprietà curative che aiutano a dissipare l'ansia, alleviare il pessimismo e stimolare la creatività. Nell'ambito della cristalloterapia, questa gemma è spesso impiegata per favorire la concentrazione mentale e migliorare l'autostima. Utilizzi nella gioielleria Consigli per la cura e la manutenzione Per mantenere la bellezza del quarzo citrino, è importante adottare alcune accortezze nella cura e nella manutenzione dei gioielli. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta e al calore estremo è fondamentale per preservare il colore della pietra. Inoltre, è bene rimuovere i gioielli in citrino durante attività fisiche intense e durante l'utilizzo di prodotti chimici aggressivi. Il quarzo citrino è una gemma straordinaria che ha catturato l'attenzione degli esseri umani per secoli. Le sue caratteristiche fisiche, il suo significato simbolico e le credenze culturali hanno reso questa pietra preziosa un oggetto desiderato per gioielli incantevoli e speciali. Che sia indossato come amuleto portafortuna o come elegante ornamento, il quarzo citrino continuerà a incantare e a ispirare per le generazioni a venire.